GFL è un'azienda cosmetica con sede centrale a Lugano e sede produttiva e operativa a Sizziano. Noi siamo un'azienda che è leader nel settore dei prodotti cortesia, degli amenities, ma che opera anche in diversi settori, tra cui principalmente la grande distribuzione, la profumeria selettiva, il contract manufacturing e il private label. Siamo un'azienda che ha un focus importante sulla qualità e sull'industrializzazione del processo. Per noi la parte industriale è molto importante per garantire ai nostri clienti una costanza di prodotto e una qualità elevata. I nostri caratteri distintivi sono sicuramente l'attenzione all'ambiente, che abbiamo sviluppato da molti anni, la qualità negli ingredienti e nei prodotti che vengono fatti, l'innovazione e il design di prodotto. Noi in questo momento vogliamo consolidare la nostra presenza nel mercato dei prodotti cortesia, che per noi rimane comunque il nostro mercato, migliorando la collaborazione con i gruppi internazionali. Abbiamo da sviluppare a livello geografico sicuramente la parte del Nord America e la parte dell'Asia, che sono due aree sulle quali stiamo investendo molto. Vogliamo sviluppare molto di più la parte retail, col mondo della grande distribuzione e dei vari canali, farmacie, profumerie, e-commerce e è importante per noi consolidare la nostra posizione di player globale. Per noi la sostenibilità e il concetto di economia circolare sono principi molto importanti. Potremmo riassumere in tre pilastri. Avere un processo green, ovvero per quanto possibile investiamo nel continuare a ridurre i consumi energetici dei nostri impianti, utilizziamo energia 100% da fonte rinnovabile e recuperiamo l'energia, come per esempio l'energia termica dei compressori viene utilizzata per riscaldare tutta la fabbrica. Il secondo punto è avere dei prodotti green. Noi crediamo molto in questo. Siamo stati tra i primi a utilizzare le plastiche riciclate nel nostro settore. Abbiamo sviluppato dei prodotti con un design più green, quindi riducendo l'impatto della plastica e pensando a degli imballi più possibile efficienti per ridurre i costi logistici e l'impatto logistico. Investiamo come responsabilità sociale nella compensazione della CO2 e quindi finanziamo progetti di riduzione della CO2, come quello del 2020 che è basato su una riforestazione di una zona degradata in Cina. Siamo membri della catena sostenibile dell'olio. Quando abbiamo pensato di creare una nuova gamma per bambini dal nome Dada Umpa, abbiamo subito pensato a degli oggetti volanti, a un piccolo coniglio che con il suo viaggio dalla Terra verso mondi lontani e pianeti esplorasse per noi il mondo cosmetico dei bambini. Dada Umpa è una gamma certificata Cosmos Organic, pensata per i bambini dal zero in su ed è una gamma testata pediatricamente e con delle formule no lacrime. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le persone sono al centro del nostro progetto ma devono esserlo ancora di più. La nostra intenzione è continuare a sviluppare un ambiente che possa essere creativo e libero per le persone che lavorano con noi, che sia sempre meno legato alle antiche regole ma che permetta alle persone di sviluppare il loro potenziale. Il nostro compito è investire nelle risorse umane per permettere loro di esprimere quello che possono fare. GFL è l'espressione di l'intenzione del nostro progetto di sviluppare il nostro progetto di sviluppare il nostro progetto. di sviluppare il nostro progetto di sviluppare il nostro progetto di sviluppare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.